Bella vecchi Drapani Cazzo ti riti Bella vecchi Drapani siamo in Granals e siamo tornati con un'altra Con un Non è in segreto eh Perciò non so perchè sto Capito? Siamo tornati con Cleverbot quindi scriverà anche male oggi E niente quindi No E quindi niente oggi cosa gli diciamo E intanto qua sotto scriveteci Cosa o come volete Che iniziamo la prossima volta il video di Cleverbot Cioè scriveteci cosa dobbiamo scrivere a Cleverbot Come tipo ciao Bella troia E noi scriviamo tanto è che siamo idevoli Puttanella Basta Multuella What sto cazzo Comincio sempre in inglese Si si perchè Puole fa sudare Puttanella So fa pure la visione in sillabe Anda Lucia Lucia Si sei Luisa Ma non abbiamo scritto Lucia Si ma sei anche dislessica Eh lo dice uno che Capito Si Ok Arsi ai mani C'ha ragione te Si I push my hands up Ciao Ciao Ok finito il video Lasciate tanti like Tanti commenti Cosa sei esattamente Un dildo Ti piacerebbe essere un dildo Beh chi è che non piacerebbe Un dildo A me non mi piacerebbe essere un dildo Che dia Vabbè lunedì e mercoledì si Domenica mi riposo Sì Domenica più le ferie Durante la settimana Mentre Il Weekend A meno che Non venga Di San Valentino Mi riposo Risposo Risposo Che hanno sparato Due volte Due volte si Dipende cosa Ma hanno sparato Due volte Ma io so Non dildo A me vanno sparato In altri modi Eh lo so T'hanno sparato Dentro Tutti i giorni Scrivi Che cazzo Noi so Mi sparano Tutti i giorni In culo Oh no Per favore Two girls one cup No no Sul serio Che sei bellissima Tu No Bam Io si e tu no Tipo bambini di 12 anni Faccia di velluto Che cazzo Che cazzo Che faccia di velluto Specchio riflessio Stava a fare Scusi Tra i bambini Faccia di velluto Specchio riflessio Se ti mavi Sencessa E' sempre stato grande Lui Devo andare Ciao 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 Ma che cazzo Ma non dovevi C'è Devo andare Ciao Ciao Come va Tutto a posto Che dici Se mi riponava Bici Questo lo facevo Da piccolo Che dici A bici Ta smonti e ta rivernici Questa nasa Sei maschio Oh beh devi rispondere Che dici Che dici A bici Sei maschio Basta Che cazzo Dici Fino a che non mi rispondi Io non dico un cazzo Sei maschio Scherzo Che burlona Che O burlona Di 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 Niente di Che Oh Ci vuole Sei in trance Che dici No Camp 1 2 3 Come era Che job Come era Graver bodda bimiminchia Oggi Ci conosciamo Si 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 Solo Tuo padre Sono una marionetta Non è possibile Non ho il padre Io non sono tuo figlio Ma è morto Dommaggio Luke 43 16 Ben Ten Ten Che ne pensi Che ne piaci N Di Che ne pensi Di Rocco Si Mai Hai Savor Bin Romano Si Io So Romano E tu Mi pare De no Comunque Ma che Questo è Il dialetto De re di Roma Si Si Sai Che stanno I correnti Del dialetto Si Proprio Cosino Pure Klaus Fara Così Sei un Crever Bor Sono Un Clever S Io sono Tua zia Qua pelata Con un Mollettone Water Buffalo Che cazzo Ma ti ho È un Buffalo D'acqua De Buffalo Godfrax Buffalo Team Che ha perso La prima giornata Riglio di Punta Ma che Anche io Lo voglio Prendo tutto Allora Tu sei femmine Anche io No Dimentiamo Amiche Forever Sì Cazzo Andiamo Ad ascoltare Violetta Sì Che resto Con te Amore Mio Forever And Ever In The House Party Sleepover Club Ma che Cazzo Stai Azzì Ok Ma È Nientato Così È Finita Tu Ah Figa Mia Avete Di più Non Comunque con questo Con questa chiusura Noi ci Salutiamo E ci becchiamo al prossimo video Di Cleverbot Come abbiamo detto Scriverci qua sotto Come possiamo iniziare il prossimo video Per La prossima volta Per la prossima volta E quindi se vi è piaciuto Lasciamo tanti like Tipo Due Tremila Quattro Cinque Sette Oto Nove Dieci E niente Come vi ricordo Lasciate un commento qua sotto Per dirci come cominciare il prossimo video Per esempio Ciao Troia So Cola Bot Or not Non lo so Ho letto là E niente Quindi noi ci becchiamo al prossimo video Ciao Smartentro